Dottor Palermo, oggi la conclusione della 5G Academy, come lei ha già sottolineato, l'importante, la cosa fondamentale è dimostrare che i ragazzi possano essere parte attiva in questa sinergia con l'università e con le aziende. Sì, è corretto perché questo è il vero valore aggiunto di un connubio tra le imprese che sono dedicate al fare e le università che si danno alla parte di ricerca e di innovazione. L'insieme delle cose permette ai ragazzi di vedere a 360 gradi le cose che hanno studiato ma anche vederle realmente implementate. Ecco, FastWeb è partner proprio di queste iniziative per dare dimostrazione che le nuove tecnologie attraggono i più giovani ma soprattutto che anche i più giovani possono dare un grande contributo a queste tecnologie. Assolutamente sì. FastWeb in realtà ha lanciato pure un progetto che si chiama Io sono futuro di sostenibilità sociale e all'interno di questo progetto noi siamo partner dell'Academy, vogliamo continuare ad esserlo anche per il prossimo anno, proprio per dare il nostro contributo a questo connubio per noi veramente creativo ed efficace per la crescita dei ragazzi. Qual è la prossima sfida del futuro secondo lei? La prossima sfida del futuro è fare in modo, come diceva pure in uno degli interventi, una delle persone è fare in modo che il 5G realmente poi possa dare un contributo alla società. Adesso ci sono ancora pochi use case e su questo stiamo lavorando, pure come imprese e sicuramente il Conumico Università aiuterà in questo senso.